Un progetto per formare una nuova figura professionale, il manager della sostenibilità. La Multi Utility Toscana Estra ha presentato il percorso che si svilupperà in tre anni e terminerà ad agosto 2020, finanziato dal programma Erasmus+. L'obiettivo è la creazione di questa figura professionale, dopo che l'Unione Europea ha stabilito che alcune tipologie di impresa, quelle di grandi dimensioni, devono inserire in bilancio un report contenente informazioni sociali e ambientali. Questo progetto permette di creare quelle competenze delle quali le aziende che fanno sostenibilità hanno bisogno. Quindi riusciamo a creare una figura utile non soltanto per le aziende che devono fare sostenibilità, ma anche per tutte quelle piccole e medie aziende che si avvicinano alla sostenibilità. Non dimentichiamo che le piccole e medie aziende sono poi la maggioranza del nostro tessuto produttivo. In effetti la modalità con cui formeremo questa nuova figura professionale è una modalità che si collega molto a quella che abbiamo usato nel costruire il nostro bilancio di sostenibilità e quindi in un certo senso questo processo è stato premiato, è stato riconosciuto come professionale. Grazie. 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 Grazie.